Presso l'ospedale Lassaria di Lucera, il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano ha benedetto l'opera dell'artista lucerino Luigi Valeno, raffigurante San Pio da Pietrelcina. Il quadro è stato consegnato al dottor Massimo Zanasi, capo del Dipartimento dei Reparti di Medicina, Geriatria e Lungodeggenza dell'Astaria. L'opera, consegnata alla presenza anche del sindaco Antonio Tutolo, è stata collocata nella struttura complessa di medicina dell'ospedale lucerino e a quanto pare sarà la prima di una serie di opere che contribuiranno a dare anima e colore ai reparti ospedalieri. Spero che il nostro santo rivolga il suo sguardo sui miei pazienti e ci illumini sempre, ha commentato il dottor Zanasi, ringraziando l'artista Luigi Valeno per il dono, il quale ha dichiarato ho ritenuto opportuno donare questo dipinto al reparto di medicina. Ritengo l'ospedale Lassaria la casa di tutti noi che adesso, con questa rivalutazione, possa diventare sempre di più polo ospedaliero per la città e i Monti Dauni. Un grazie a tutti gli angeli che lavorano nella struttura, ha concluso Valeno.